L'ideologia, quando incontra la vita, spegne tutti i suoi dispositivi con BIOS, Bit, Byte, Default, Driver, Internet, HTML, Wi-Fi, Tablet, schermi luminosi, smartphone, suonerie, app e tantissime altre ancora. L'ideologia si stacca tutto per godersi attimi di vita indelebili. La vita è l'invenzione più grande dell'universo, è l'evoluzione dell'anima e dell'amore, è amica della tecnologia, ma comprende quando poter essere libera di correre, respirare, cantare la sua felicità, con la tecnologia accesa solo sull'anima.